Cari vivioli, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del padre. In questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, in merito anche direi e soprattutto del popolo italiano, di altro modo e nessuno altro di tutti. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le porte che sono destinate per statuto a difetti, compattenti di terra, mare e maria. L'uomo indivisa da generale dell'esercito americano sta per lasciare l'unica cosa che sa dare un senso alla sua vita. Il campo di battaglia, l'odore della guerra. Il suo nome, George Smith Patton Jr. È un eroe della seconda guerra mondiale, ma la guerra è in Europa, è finita da molti mesi. Ora è in attesa della partenza. Per l'ultima volta compie un pellegrinaggio a Zalburg, una fortezza di epoca romana che vide le imprese di Adriano, il grande imperatore che come Patton era anche uno straordinario generale. L'iscrizione imperatore dei Germani, in fondo potrebbe valere anche per le imprese del generale americano in terra tedesca. Queste sono le ultime ore che Patton trascorre in Germania, prima di tornare negli Stati Uniti. Ma il 21 dicembre 1945 perde la vita in un misterioso incidente automobilistico. Ma fu davvero un incidente? Qualunque sia stata la causa della morte, l'eroe del Nord Africa, della Sicilia e delle Ardenne, non ha più lasciato la fortezza Europa. Le spoglie di George Patton dunque riposano in terra tedesca, là in mezzo ai suoi soldati. Così ha voluto il generale d'acciaio come lo avevano soprannominato. E Patton è stato davvero un mito della storia, un generale carismatico, intransigente, un uomo spigoloso, scomodo, durissimo con i suoi soldati. Ma sempre amatissimo da loro. Il cinema ce lo ha raccontato con il volto di George Scott e con quella colt dal manico d'avorio. Ma lui, il vecchio guerriero, l'eroe che tutta l'America ammirava, in realtà disprezzava l'alleato Montgomery e invece ammirava il suo nemico Rommel. E' stato l'eroe della campagna del Nord Africa, dello sbarco in Sicilia e della battaglia del ponte di Remagen. E questa è la sua storia. Quando nel febbraio del 1945 i servizi segreti tedeschi elaborano un dossier su George Patton, il loro lavoro è ormai inutile. Il generale, come pochi altri, ha lasciato un segno indelebile sulla Seconda Guerra Mondiale. Foto di gruppo con vincitori. Confuso nel comando supremo delle forze alleate agli ordini del generale Dwight David Eisenhower. E' uno fra i tanti. Troppo poco per George Patton. Per il generale, l'esercito americano e la guerra contro Hitler sono stati l'occasione per entrare nella leggenda. George Smith Patton Jr., un generale, una uniforme e un cinturone da cowboy con due colt single action dal calcio in avorio. Affronta Hitler e la sua Wehrmacht come un eroe western nel duello finale, aprendo caparbiamente la via alla vittoria alleata sul Terzo Reich. Ma è anche una delle figure più controverse della Seconda Guerra Mondiale. Patton è un soldato fermamente convinto di essere stato scelto da Dio per difendere la sua patria dall'aggressore nazista. Un uomo che ha lottato per tutta la vita contro un incubo, essere sconfitto. Un generale che ha combattuto in prima linea e ha contribuito alla fine del Reich di Adolf Hitler. Eppure, alla fine della guerra, ha provato imbarazzanti simpatie per l'ideologia nazionalsocialista. Un eroe americano per il quale la guerra ha rappresentato anche una compensazione affettiva. Dannazione! Non è facile dire a persone che si amano, andate e fatevi uccidere! Noi dovevamo dirlo! E per Dio, loro sono là fuori e hanno vinto! Ma io vorrei ricordare a tutti voi, che il sacrificio di questi uomini non deve essere stato compiuto in mano! Certe volte pensavo che fosse un brutto figlio di p***a, ma era anche una persona dannatamente per bene. Lo seguivamo ovunque. Se avesse detto Salta, noi avremmo chiesto quanto? Davvero? Patton simboleggiava la grandezza della nostra nazione. Fort Knox, Kentucky. Nel Patton Museum sono conservate le memorie di una guerra che gli Stati Uniti hanno combattuto e vinto pagando un prezzo altissimo in vite umane. È passato più di mezzo secolo, ma qui tutto sembra riportare a quei giorni. Una montagna di ferro e acciaio che ha reso agli Stati Uniti una potenza mondiale. Al centro, la sala Patton. Qui le giovani leve hanno modo di conoscere l'uomo che più di ogni altro incarna un ideale di patriottismo un po' roboante che il cinema americano ha trasferito in un film di culto. Patton generale d'acciaio. Era uno dei migliori. Ha fatto sì che l'esercito americano diventasse il più forte del mondo. Bene. Ha dedicato tutta la vita ad essere un buon soldato. Bene. George Patton ha soddisfatto pienamente la propensione al gesto eroico che è in molti americani. Nessun altro è riuscito a celebrare valori tanto condivisi come l'ideologia del selvaggio West e lo spirito pionieristico. Da sempre il soldato George si prepara nel caso in cui debba essere chiamato a fare il suo dovere di soldato degli Stati Uniti d'America. Ma nel 1940, per gli Stati Uniti, la guerra è ancora lontana. Il presidente americano Roosevelt intende attenersi rigidamente alle leggi della neutralità. Nessun soldato americano per una guerra in Europa o in qualunque altra parte del pianeta. Un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto è impensabile. Quando la Wehrmacht tedesca dilaga in Francia, la futura potenza mondiale statunitense ha meno soldati in armi del piccolo Belgio, appena travolto dai tedeschi. Circa 200.000 uomini. Per un uomo come George Patton, una prospettiva sconcertante. Mio nonno non stava in attesa di una guerra. Preghava perché ne scoppiasse una nuova. Oggi rimarremo sconvolti nel leggere le lettere che scriveva a casa. Diceva che invidiava i soldati della Prima Guerra Mondiale. Gli sarebbe tanto piaciuto tornare a quegli anni. Noi sappiamo che era stato un orrore inimmaginabile, ma lui credeva che solo con una guerra fosse possibile conquistare onore e gloria. Lo pensava nel profondo del cuore. 1917-1918. Patton partecipa a quella gloriosa epoca che era stata la Prima Guerra Mondiale. Ma per il generale, che qui vediamo in alcune scene familiari degli anni Trenta, è già passata un'eternità. Per molti ufficiali del ridotto esercito americano, gli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale sono disnervante attesa di qualcosa che dia un senso alla loro vita. Anche Patton non nutre alcun interesse per incarichi da assolvere in tempo di pace. 1910. George si sposa e ha un figlio maschio e tre femmine. Nel suo diario scrive... Mi devo occupare delle cose più stramaledetamente inutili che abbia mai dovuto fare in vita mia. Spero solo che venga una dannata guerra. La consapevolezza che nel periodo fra le due guerre non succedeva nulla, che non si preparava nessun conflitto, lo gettò in una profonda crisi. Per uscirne, prese la sconcertante decisione di fare un viaggio in barca a vela con suo figlio, dalle Hawaii alle isole del sud del Pacifico. Fu un'impresa pericolosa, perché lui era davvero un pessimo velista. Diceva, se avrò fortuna, finirò affogato. Ne aveva abbastanza della vita. Diceva anche, meglio andarsene da giovani durante un'avventura, che morire vecchie e tristi. Ma la posizione militare degli Stati Uniti sta per subire una brusca sterzata. Nel paese cresce la paura di aggressioni esterne e si diffonde la sensazione che sia possibile rimanere coinvolti nel conflitto. Vengono accelerati i tempi del riarmo e con la legge affitti e prestiti, si sostiene l'Inghilterra con forniture belliche, nella speranza di una rapida vittoria degli inglesi. La consistenza dell'esercito americano all'inizio della guerra era molto, molto modesta. Nel 1940 i militari americani non arrivavano al mezzo milione. Invece, alla fine della guerra, arrivarono a ben 12 milioni sotto le armi. Per quanto riguarda la produzione industriale rivolta alla guerra, basti citare il caso degli aerei. Nel 1939 l'America produceva circa 2.000 aerei l'anno. Alla fine della guerra, nel 1944, ne produce quasi 100.000. Luglio 1941, hanno inizio le più grandi manovre militari della storia degli Stati Uniti. Ora l'esercito conta un milione e mezzo di soldati. È il momento di George Patton. La prestigiosa rivista Life gli dedica la copertina. È lui, Patton, l'ideatore delle moderne truppe corazzate che saranno decisive per il futuro degli Stati Uniti. Ora il paese ha un esercito dinamico e potente che ancora oggi coglie i frutti di quell'impegno. Cambiò radicalmente l'esercito. Convertì la vecchia cavalleria in forti unità motorizzate. La trasformazione del nostro esercito in un apparato moderno fu merito del lavoro svolto da Patton prima della guerra. Il nome di Patton figura su tutti i testi di tattica militari. 7 dicembre 1941. Attacco giapponese a Pearl Harbor. Una data storica per gli Stati Uniti e per George Patton. Un duro colpo che costringe al cambiamento la politica neutrale del governo americano. Uno stato di guerra già esiste fra gli Stati Uniti d'America e l'impero giapponese. Per Patton è una liberazione. Finalmente si combatte contro i tedeschi. Ma dovrà aspettare nove mesi prima di arrivare in Africa del Nord. 8 novembre 1942. A inizio l'operazione Torch. Le truppe di Eisenhower sbarcano in Algeria e Marocco. Per Patton un traguardo esaltante. Il giorno più bello della mia vita fino ad oggi. È come se tutta la mia esistenza fosse trascorsa in funzione di questo momento. Dio è con noi. Il suo incarico. Appoggio alle truppe britanniche nella lotta contro gli Africa Corps di Rommel. La campagna nell'Africa settentrionale è la prima fase dell'attacco al continente europeo. Mio padre rimase impressionato dalla rapidità con cui dal nulla nascevano armate e navi e da come misero in piedi un'organizzazione di gran lunga superiore a quella tedesca. È un momento critico per il corpo di spedizione africana del generale Rommel. Ad est arrivano gli inglesi e adesso da ovest sopraggiunge Patton. Da quando è stato assegnato all'operazione in Nordafrica il generale americano porta sempre con sé un libro Infanterie Greif Tan Fanterie all'attacco di Erwin Rommel Un anno prima dopo la conquista di Tobruk da parte di Rommel Patton scrive Rommel, geniale bastardo avrei dovuto leggere più attentamente il tuo libro. Ma il più grande desiderio di Patton non si avvererà il confronto diretto con il Feldmaresciallo tedesco Uomo contro uomo Panzer contro Panzer Mio padre avrebbe trovato qualcuno che avrebbe duellato per lui Non credo che l'avrebbe fatto Certo, mio padre non era poi così male era un vecchio ufficiale di fanteria non era da sottovalutare ma anche i cowboy avrebbero incontrato delle difficoltà Patton però non ha di fronte solo il Feldmaresciallo Rommel che pure ammira tanto ma anche il comandante in capo delle truppe alleate il maresciallo Montgomery Patton non digerisce molto l'idea di dover sottostare a qualcuno soprattutto se si tratta di un inglese e in particolare di quello spocchioso di Montgomery Faceva sempre battute sul suo nome era scontato non lo sopportava proprio a cena per esempio non faceva che raccontare aneddoti su Montgomery Nei primi mesi di combattimenti in Nord Africa gli americani meno preparati allo scontro subiscono pesanti sconfitte ad opera dei tedeschi ma Patton impara rapidamente dagli errori iniziali e adotta la tattica ad attacco di Rommel negli Stati Uniti il generale assorge agli onori della cronaca e la cosa non gli dispiace affatto è consapevole del grande potere delle immagini tiene molto alla sua figura e non lascia nulla al caso è molto vanitoso fa girare più volte questa scena del binocolo per il cinegiornale americano e interrompe le riprese solo quando la sua faccia da guerra è perfetta non riuscì più a liberarsi da quella maschera di superiorità sicurezza e invincibilità che si era cucito addosso né riuscì a stemperare la durezza acquisita in guerra e a mostrare il suo lato più debole che in famiglia conoscevamo bene con l'età perse tutto questo anche la sensibilità era una maschera la faccia da guerra era una maschera che se portata troppo a lungo non riesce più a toglierti dopo la vittoria contro i tedeschi in nordafrica per gli angloamericani si apre un nuovo fronte 11 luglio 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia sono finalmente sul continente europeo l'operazione Aski ha una forza d'urto che sorprende anche i tedeschi poi l'avanzata si arresta drammaticamente sulla costa orientale dell'isola le truppe di Montgomery sono impegnate in duri scontri contro i tedeschi il loro obiettivo Messina circa 150 km a nord verrà raggiunto solo dopo alcune settimane anche gli americani incontrano forti difficoltà Patton non ha dubbi per raggiungere Messina girerà la Sicilia i cina giornali americani celebrano un Patton trionfatore che conquista città su città sullo sfondo i siciliani entusiasti sono comparse ideali per la grande esibizione dell'eroe il generale Patton che comanda la sesta armata americana in Sicilia lascia il quartier generale su un blindato entusiasti i siciliani accolgono gli americani a braccia aperte scena che si ripete di paese in paese mentre i soldati americani si dirigono verso Palermo Patton coglie l'occasione per liberarsi di Montgomery signori è in gioco l'onore dell'esercito degli Stati Uniti dobbiamo arrivare a Messina prima degli inglesi Montgomery dopo lo sbarco aveva come obiettivo quello di raggiungere al più presto Messina per tagliare la strada a una ritirata degli italiani e dei tedeschi attraverso lo stretto di Messina viceversa Montgomery si bloccò alle falde dell'Etna e Patton avrebbe avuto il compito anche lui di raggiungere al più presto Messina viceversa di fatto Patton accompagnò la fuga la ritirata diciamo degli italiani e dei tedeschi di modo che italiani e tedeschi riuscirono poi a salvarsi a transitare attraverso lo stretto di Messina e i tedeschi in particolare a salvare gran parte del materiale quindi la vittoria degli alleati in Sicilia fu una vittoria limitata perché non fu accompagnata dalla chiusura delle truppe nemiche in una sacca dovemmo fare quel lungo giro intorno alla Sicilia ma Patton voleva battere Monti era questo il suo obiettivo più importante far sventolare la bandiera degli Stati Uniti e dimostrare il grande valore dei soldati americani la Sicilia la più bella isola del Mediterraneo ha il suo eroe il generale americano ha tanti nuovi amici in patria lo chiamano il dio delle battaglie old blood and guts il vecchio guerriero per la stampa è una star nazionale ma soltanto pochi giorni dopo lo schiacciante trionfo i titoli dei giornali sono tutt'altro che benevoli l'opinione pubblica si interroga le ingenti perdite subite dagli americani sono state il tributo da pagare per la vittoria sui tedeschi o su Montgomery Patton ha deciso di sacrificare i soldati statunitensi in una gara con gli inglesi visita del generale in un ospedale da campo davanti ad ufficiali americani gravemente feriti schiaffeggia due soldati semplici che a suo dire sarebbero semplicemente in preda ad uno shock da combattimento questa cosa suscitò un grande scandalo sia fra i militari americani che lo seppero sia anche fra i giornalisti corrispondenti di guerra uno di questi giornalisti del Saturday Evening Post andò da Eisenhower che era il comandante di Patton e gli disse guardi che è successo questo episodio increscioso che potrebbe portare il suo generale Patton davanti a un tribunale militare perché ha commesso un reato al che Eisenhower si seccò molto la stampa americana non parlò mai dell'episodio ma Eisenhower mandò una lettera durissima a Patton gli chiese di scusarsi con il soldato e in più parlando con un suo aiutante di campo Eisenhower disse a volte i generali impazziscono Patton l'eroe con la faccia da guerra mostra un evidente disagio psichico è assillato da un senso di inferiorità che risale ai giorni dell'infanzia se si vuole comprendere Patton uomo bisogna studiare Patton da giovane quello che nessuno conosce c'è il Patton costruito dalla stampa e il Patton vero quello creato da Dio occorre tornare agli ultimi anni del diciannovesimo secolo George Smith Patton Jr detto Georgie nasce l'11 novembre 1885 a San Gabriel in California queste riprese amatoriali della famiglia risalgono al 1925 alla cinepresa George Patton in persona le immagini mostrano una tipica famiglia americana un'atmosfera serena senza problemi ma non è così l'uomo che gira queste immagini durante l'infanzia ha dovuto sopportare scherno e derisione George soffre di dislessia una malattia allora sconosciuta i genitori qui ripresi nel filmato hanno assistito premurosamente il figlio impaurito e insicuro non è una malattia come l'influenza è l'incapacità di mettere le lettere nella giusta successione è un disturbo molto diffuso dalla dislessia si può guarire oppure no Patton fu fortunato e la superò tuttavia alla fine dell'ottocento l'handicap di George Patton è vissuto come una tara una vergogna un senso di inferiorità di cui nonostante gli sforzi George non riuscirà più a liberarsi ciò nonostante il padre manda George in due accademie militari è una tradizione familiare da rispettare ad ogni costo l'accademia di West Point a nord di New York George è un giovane ambizioso il suo sogno è diventare il più famoso ufficiale dell'esercito americano vuole essere più importante dei suoi antenati ma George ha qualche problema in molte materie va male ed ha voti pessimi per il diciottenne Patton la dislessia è un problema enorme ingaggia perciò una permanente lotta interiore contro se stesso e il proprio handicap scrive al padre caro papà temo di essere un sognatore che non avrà mai successo non riesco a immaginare un inferno peggiore di una vita da perdente sarebbe molto meglio morire temo caro papà di aver perduto quella fiducia nelle mie capacità quella fiducia che per te è tanto importante ho tanta paura di fallire la paura del fallimento diventerà il motore costante di ogni sua azione la paura di fallire è la chiave di volta della personalità di mio nonno da bambino aveva paura della sua dislessia da adulto aveva paura che i suoi sogni di gloria militare non si realizzassero a West Point convivevano entrambi i suoi incubi si occupava di questioni accademiche e cullava il sogno di una fulgida carriera militare il timore che questo non potesse realizzarsi lo ha quasi ucciso ha avuto bisogno dell'aiuto della famiglia perché era estremamente insicuro a West Point George qui in primo piano si dedica alla cosa che più lo affascina la storia militare divora testi di strategia militare i suoi preferiti sono gli autori e i generali tedeschi e francesi che legge anche in lingua originale le note a margine che risalgono a questi anni denotano una competenza piuttosto sorpresidente il giovane Patton mostra acume nelle questioni strategiche oggi i giovani cadetti di West Point devono fare i conti con uno degli allievi più illustri dell'accademia la classe al completo agli ordini sedetevi ok va bene Patton arriva in Nord Africa corso annuale tenuto dal capitano French nascita della potenza militare degli Stati Uniti una storia di oltre 60 anni fa Nord Africa 1942 gravi sconfitti gravi sconfitti ad opera del tedesco Rommel vittorie americane con l'impiego offensivo di unità corazzate guerra di movimento nel deserto un prezioso bagaglio di esperienze per un esercito che anche di recente come nella guerra del golfo ha tratto insegnamento dalla storia di Patton gli Stati Uniti entrano in guerra la seconda guerra mondiale è ancora oggi materia di studio per le nuove generazioni di ufficiali americani e insieme cacceranno i tedeschi dal Nord Africa 1909 George Patton è a West Point tre anni dopo all'accademia entra un giovane cadetto che nella seconda guerra mondiale sarà il superiore di Patton Dwight David Eisenhower Douglas MacArthur Eisenhower e naturalmente Patton a tre dei più grandi generali americani è stato eretto un monumento Eisenhower e Patton si voltano le spalle casuale fantasia d'artista? nel periodo fra le due guerre i due sono amici ma il rapporto cambia quando nel corso del secondo conflitto mondiale Eisenhower viene promosso comandante supremo delle truppe alleate in Europa Patton diventa un suo sottoposto dopo la sconfitta tedesca in Sicilia gli alleati preparano l'operazione Overlord lo sbarco sulla costa francese è l'attacco al cuore dell'Europa ma Patton non c'è è escluso nel suo diario annota mi sento tradito mi tocca baciare il c***o a così tanta gente che ho le labbra tutte scorticate la vecenda degli schiaffi ai due soldati semplici in Sicilia non è portata di fronte al tribunale di guerra ma Patton viene escluso da incarichi di comando nell'operazione di sbarco Eisenhower gli affida il comando di un gruppo d'armata schierato sulla costa inglese della Manica come diversivo per i tedeschi Rommel che nel frattempo è stato chiamato da Hitler a difendere il vallo atlantico ritiene che solo Patton sia in grado di comandare le truppe da sbarco angolo americane e quindi rafforza le proprie unità vicino Calais Patton era atterrito all'idea di non dover combattere non voleva che la guerra finisse senza che si compisse quello che definiva il suo destino il destino era la sua molla e il suo destino era di passare alla storia come uno dei più grandi eroi della seconda guerra mondiale 6 giugno 1944 Patton è costretto ad assistere allo sbarco in Normandia senza avere alcun ruolo deve rimandare a tempo indeterminato i suoi piani da eroe il generale Patton con la sua armata avanzano a una velocità sorprendente 28 luglio 1944 i cinegiornali tornano a fare il suo nome l'armata britannica è il punto di incontro Calais-Trap nonostante la partenza forzatamente ritardata sotto il suo comando la terza armata avanza ad una velocità sorprendente obiettivo Berlino in Francia Patton costringe i tedeschi a ripiegare ed annuncia orgoglioso i miei carri armati penetrano nelle linee tedesche come un coltello rovente nella m***a l'iniziativa personale di Patton e la sua avanzata creano ancora una volta un problema per la strategia generale degli alleati il comandante supremo delle forze anglo-americane Eich Eisenhower decide di negare gli approvvigionamenti a Patton gli viene razionato il carburante Patton è convinto che dietro questo boicottaggio ci sia lo zampino di Montgomery il suo rivale inglese deve aver chiesto ad Eisenhower il dirottamento delle scorte di benzina nella zona che gli inglesi stanno occupando a nord alcuni ufficiali americani ritengono che il loro comandante avrebbe ceduto ai capricci egoistici del generale britannico in una situazione del genere solo Eisenhower aveva una visione complessiva delle condizioni e del ruolo degli alleati riusciva a tenere insieme britannici canadesi francesi e americani Patton al contrario si è sempre sentito discriminato la si può pensare come si vuole ma Eisenhower era un maestro nel 1944 in Francia e in Belgio ci furono dei contrasti molto forti tra Patton e Montgomery a proposito dei rifornimenti però uno storico molto serio come Taylor ci fa osservare che la questione nacque per la semplice ragione che gli alleati erano andati troppo avanti e troppo in fretta e quando accade questo in guerra nasce sempre un problema di rifornimenti perché le vie di comunicazione si allungano e probabilmente questo accade anche allora anche se secondo Lidl Hart in qualche modo può darsi che Eisenhower favorisse i britannici per mantenere un certo equilibrio una certa armonia lui che era americano volle essere generoso nei confronti degli alleati inverno 1945 nel giro di poche settimane Francia Belgio e Lussemburgo vengono riconquistati dagli alleati e George Patton che dopo l'ultima disperata grande offensiva sulle Ardenne con suo attacco a Bastogne ha reso possibile l'assalto finale contro il Reich tedesco febbraio 1945 Patton e la terza armata degli Stati Uniti sono alla frontiera del Reich ha inizio l'ultimo atto della vita di George Smith Patton Jr. A Bollendorf al confine con il Lussemburgo il generale mette piede per la prima volta sul suolo tedesco Patton è finalmente giunto dove dall'8 novembre 1942 dallo sbarco in Africa del Nord gli americani volevano arrivare il Reich di Hitler ma è scritto nel destino di Patton che non debba lasciare questa terra da vivo in quei giorni scrive una lettera a casa ho delle premonizioni sulla mia morte imminente qualche settimana prima aveva confessato come avrebbe voluto morire la giusta morte per un soldato è la morte rapida l'ultima pallottola nell'ultima battaglia 22 marzo 1945 Patton è sulle rive del Reno senza grossi clamori conduce una parte della sua armata sull'altra sponda del fiume del destino dei tedeschi è ancora notte quando Patton esorta il suo superiore il generale Omar Bradley a comunicare alla stampa il suo successo telefonò a Bradley Dio santo Brad che aspetti dillo a tutto il mondo la terza armata ha attraversato il Reno il motivo di tanta fretta Montgomery Patton non avrebbe mai sopportato che proprio il generale inglese attraversasse il Reno prima di lui e inoltre ha la presenza di ospiti d'eccezione Patton è condannato a vincere sempre e ad ogni costo si voleva dimostrare a tutti quanto valeva voleva essere il primo nel suo vocabolario la parola secondo non esisteva voleva sempre essere primo tutto qui il generale percorre 308 chilometri lungo il corso del Reno raggiunge il ponte di Remagen i suoi soldati raccontano che proprio in quel momento dalle nuvole fa capolino il sole Patton si porta rapidamente al centro del ponte di Barche ci aveva fatto una promessa quando fosse arrivato sul Reno ci avrebbe pisciato dentro e avrebbe fatto salire il livello di quello stramaledetto fiume mantenne la parola data per prima cosa urinò nel fiume era un gesto simbolico come due anni prima in Sicilia il trionfo sul Reno è perfetto ospiti di Rango rendono omaggio al generale ancora una volta Patton è al centro della scena ancora una volta crede di aver raggiunto il culmine della carriera anche a Washington il giudizio su Patton diventa unanime ma il generale non è ancora soddisfatto da tempo medita un'azione straordinaria una lettera a casa Carabè marciamo verso il lager dove tengono John poche parole per annunciare uno dei suoi errori più clamorosi l'attacco a Hammelburg un campo per prigionieri di guerra secondo Patton l'azione dovrebbe creare disordine fra le truppe naziste ma Hammelburg si rivela un fallimento totale inoltre secondo l'accusa il generale avrebbe mandato al massacro i soldati americani solo per liberare il marito di sua figlia John Waters il genero sopravviverà e verrà liberato diverse settimane dopo l'attacco al campo di prigionia ma negli Stati Uniti la fama di Patton è definitivamente rovinata resta solo l'immagine di un soldato brutale che va in giro con i suoi revolver con il calcio d'avorio che picchia i suoi soldati e ama la guerra più della pace si dice spesso che Patton volle tentare di liberare il campo di prigionia di Hammelburg per liberare il genero che si trovava lì in realtà io credo che ci fosse anche un'altra ragione e la ragione era quella lì di contenere l'espansione dell'Unione Sovietica ridurre la zona di occupazione dei sovietici in Germania proprio per questo il caso Patton in quel momento suscitò anche le ire di Stalin perché Stalin capì benissimo qual era l'obiettivo di Patton non suo genero ma qualche cosa di più importante la terza armata di Patton è impegnata nelle azioni militari da meno di un anno quando libera il campo di concentramento di Buchenwald Eisenhower e diversi altri ufficiali entrarono nel campo di concentramento Patton si sentì male e vomitò vedere come erano stati ridotti degli esseri umani gli era insopportabile ma proprio Patton qualche settimana dopo avrà parole di disgusto verso gli ebrei detenuti nei campi di concentramento darà la responsabilità dei problemi del mondo all'ebraismo e al comunismo in Germania la guerra sta per finire e Patton entra in crisi in questi giorni il generale appare ai suoi soldati pensieroso ed assente negli ultimi mesi della guerra quando sapeva che la fine era vicina che la sconfitta di Hitler ormai era solo una questione di tempo nelle lettere che scriveva a casa cominciò a parlare non della gioia per la fine della guerra ma di una sorta di paura per il proprio futuro dopo un'esperienza così intensa cosa avrebbe potuto fare si sarebbe ritirato nella sua fattoria gli sarebbe bastato andare a cavallo per essere felice temeva di no 8 maggio 1945 i cannoni i carri armati e l'artiglieria della terza armata di Patton dopo l'ultimo saluto tacciano in città e nelle campagne circostanti regna la calma la guerra è finita Forse avrò dei problemi a dire quello che sto per dire. Per Patton era terribile che la guerra fosse finita. In realtà per Patton la fine della guerra è una catastrofe. Declassato ad una sorta di promotore degli aiuti per la ricostruzione, sempre in viaggio come rappresentante degli Stati Uniti d'America, gira per tutto il paese, di parata in parata. Accetta l'incarico più triste e penoso che si possa immaginare per lui, governatore militare della Baviera. Non c'è più nulla che un soldato come lui possa fare. Scrive continuamente lettere ai vertici militari nel Pacifico. Vuole andare dove c'è la guerra, ma nessuno vuole quel generale così imprudente. La pace per me sarà un inferno. Negli otto mesi successivi alla fine della guerra in Europa, l'eroe decorato con le quattro stellette è in continuo fermento e non perde occasione di far parlare di sé. I primi problemi nascono già poco dopo la resa dei nazisti. Patton dichiara ai giornalisti. Quei soldatini di piombo che sono i politici di Washington ci hanno concesso di togliere i tedeschi dalla... Ma noi abbiamo anche contribuito a far crescere un secondo nemico addirittura peggio del primo. Stavolta avremo bisogno di tutto l'aiuto possibile di Dio per proteggere il nostro mondo da questo Stalin e dalle sue orde assassine. Patton dichiara che l'esercito americano e la Wehrmacht insieme sarebbero l'unico mezzo per scongiurare questo nuovo pericolo e sarebbe tempo, come dice lui, di marciare su Mosca e risolvere questa faccenda. Il generale sembra aver perso il controllo. Patton cominciò a dire cose strampalate del tipo, bisogna andare avanti, stiamo combattendo contro il nemico sbagliato, eccetera. Noi avevamo le tasche piene della guerra e tutti, senza eccezione, pensavamo che fosse completamente pazzo. In una lettera a casa manifesta un'aperta simpatia verso il nemico di un tempo. Quei figli di p***o delle SS sono una combriccola dannatamente affascinante. Patton, che ha contribuito in prima persona a distruggere l'orrore del nazismo, nutre sempre più dubbi sul processo di denazificazione. Il suo atteggiamento è ormai incomprensibile. Fa allusioni continue a pericoli incombenti. Più capisco questa maledetta pace e più mi spiace di essere sopravvissuto alla guerra. È sempre più attratto dai luoghi dove immagina riposino i suoi pari, i numi tutelari della cultura militare tedesca. Entrare nel pantheon degli immortali, questo è da sempre il sogno di George Patton. Ha forse dimenticato che anche Adolf Hitler, il suo nemico mortale, è stato in questo stesso luogo? Settembre 1945, conferenza stampa a Battles. Con le sue dichiarazioni Patton provoca uno scandalo, un suicidio politico premeditato. Il volto gli divenne cinereo. Poi cominciò a parlare. Quello nazista è solo un partito, come tutti gli altri, come quello democratico e quello repubblicano. Non si sentiva volare una mosca. I giornalisti avevano il loro pezzo da prima pagina. Mentre andavamo via, Patton mi disse una dichiarazione da pazzo furioso. Ma non volevo togliere la soddisfazione a quei figli di puttana di sentirme la fare. Patton si lasciò andare a dichiarazione di simpatia verso i nazisti, probabilmente perché lui, uomo di guerra, voleva continuare a combattere e voleva continuare a combattere insieme con i tedeschi contro i sovietici questa volta, contro Stalin. Io credo che lui si fosse reso conto che in quel momento c'era un'occasione, dato che i sovietici erano esausti e quindi sarebbe stato possibile sconfiggerli rapidamente. Patton non voleva la pace. Patton era uomo di guerra. Lui voleva assolutamente continuare a combattere tutta la vita e in quel momento pensava di poter combattere contro i sovietici. Ma appunto era un uomo che non avrebbe mai potuto aspirare ad avere il ruolo di Eisenhower perché Eisenhower era un uomo di pace, era un uomo di pace e di guerra, diciamo, però capace di mediare in tempo di pace. Patton mai. Il generale Patton non è più credibile. Gli viene tolto il comando della terza armata Anche Eisenhower volta definitivamente le spalle al suo amico di un tempo. Quando ci siamo detti addio avevamo tutti e due le lacrime agli occhi. Il giorno dopo assunse il comando di un'armata che però esisteva solo sulla carta. Voleva scrivere la storia della terza armata. Adesso, per il comandante supremo, l'amicizia con Patton diventa inopportuna e imbarazzante. Eisenhower punta a incarichi più importanti e guarda Washington. Di nuovo la stampa americana ha una notizia sensazionale. In una lettera Patton fa i nomi dei veri responsabili dei suoi problemi e di quelli di tutta l'umanità, i comunisti e gli ebrei. Quando disse quelle cose sui nazisti e sugli ebrei, mia nonna disse di non essere affatto sorpresa. Lei stessa ce l'aveva molto con Eisenhower perché l'aveva assegnato a quell'incarico. Diceva che nessuno meglio di lui poteva sapere che George non era per niente adatto per quella mansione. George è un combattente. Una breve visita negli Stati Uniti. È estate e il generale visita per l'ultima volta il luogo dove è nato. A St. Gabriel Patton è un eroe indiscusso ancora oggi. Qui c'è la piccola chiesa dedicata a Gesù Cristo Redentore. E immediatamente vicino al Redentore c'è anche il generale. Anche di fronte all'Onnipotente Patton sembra mantenere il suo atteggiamento inflessibile. Benvenuti nella chiesa di Nostra Signora in St. Gabriel in California. Questa chiesa è stata progettata nel 1867 e fu costruita nel 1870 su un terreno donato da Don Benito Wilson, il nonno di George Patton. Qui la gente è fiera del generale e di tutta la famiglia Patton. Proprio gli antenati di George hanno donato il terreno per la piccola chiesa costruita nel 1870. Vicino all'altare c'è la vetrata dedicata a George Smith Patton Jr. Con tratti delicati è raffigurato il coraggioso San Giorgio mentre uccide il drago. Le nuvole con le stazioni delle sue battaglie lo innalzano ad una dimensione ultraterrena. Fra gli artigli del drago le città tedesche liberate. E nel carro armato lui, l'uomo con la faccia da guerra. A Los Angeles viene festeggiato calorosamente. Eppure l'uomo che era profondamente convinto di essere stato scelto da Dio per combattere in nome dell'America l'uomo che ha lottato tutta la vita contro la paura di fallire non ha ancora raggiunto il suo traguardo. Era l'ultima tappa della sua parata per la vittoria ma dentro di sé mio nonno aveva già detto addio ad ogni cosa. Tutti credevano che si sentisse come un condottiero o un re che tornava in patria per essere incoronato ma non era questo il suo stato d'animo. Allo stesso modo non fu contento della visita alla sua fattoria ad Hamilton nel Massachusetts perché dentro di sé non aveva ancora risolto il problema della pace e del suo futuro. Voleva tornare in Europa. C'era un tarlo che lo rodeva una specie di macchia scura nella sua mente. Credo che fosse il presagio della morte che si avvicinava. Penso che Patton fosse un uomo molto intelligente e capace però anche le parole del nipote ci fanno capire che era un uomo molto disturbato e anzi mi viene in mente ciò che disse un grande psicologo Wilfred Bion il quale tra l'altro ha studiato proprio le truppe americane durante la seconda guerra mondiale e aveva studiato dei gruppi di militari messi a disposizione dall'esercito degli Stati Uniti ed era arrivato alla conclusione che in ogni gruppo si forma spontaneamente una gerarchia e che di solito il capo di questa gerarchia è sempre la persona più disturbata. Ora Patton tra l'altro aveva sofferto di una dislessia cioè di una malattia molto grave da giovane è una malattia per la quale è molto difficile leggere e scrivere era riuscito a superare la dislessia con uno sforzo ritengo enorme ma il suo carattere era sicuramente stato marcato da questa disavventura e lui era continuamente alla ricerca di una affermazione di se stesso attraverso il comando e in più attraverso la guerra perché la amava. 21 dicembre 1945 Mannheim 21 dicembre 1945 a Heidelberg è morto il generale Patton credo di non essere stato abbastanza bravo a Heidelberg Grazie.